E presso la sede delle CPE, il Centro Polifunzionale Emergenze di Alzano San Paolo, quartiere generale della protezione civile, c'è anche la sede dell'Associazione Bergamasca Radio Matori. Oggi incontriamo il Presidente Fermo Norris e il Coordinatore Ponti Radio Marco Dolci. Ma partiamo da Fermo. Esattamente cosa fa la vostra associazione? L'Associazione Radio Matori Italiani comprende tutti i vari radioamatori iscritti all'ARI, l'Associazione Radio Matori Italiani, i quali hanno la possibilità, dopo che è stata conseguita la patente dei radioamatori, di utilizzare bande radioamatoriali su frequenze diverse ed effettuare collegamenti radio a fini di studio, prevalentemente verificare la propagazione, verificare quelle che sono le possibilità di ricezione e di trasmissione dei vari modi e soprattutto anche parlare e collegarsi con i diversi radioamatori del mondo, sempre e comunque in possesso di patente e di nominativo di stazione. C'è da premettere che ogni radioamatore, dopo che ha conseguito la patente, ottiene il nominativo di stazione col quale opera presso la sua abitazione e mentre invece noi qui in Bergamo, presso la nostra sede, abbiamo il nominativo di stazione, di stazione specifico è Italia Quebec 2 Bravo Golf, che è il nominativo assegnato alla stazione radioamatori di Bergamo. Quindi dietro al termine radioamatore non c'è una persona che si occupa solo di sentire degli amici che abitano lontano, c'è qualcosa di più? Beh, ci sono anche altre attività, oltre alle gare che facciamo nei contest e altre cose, anche per la posizione civile, anche per gestire i ripetitori radio. Io mi occupo di questo da una vita, è sempre stata la mia passione e per questo mi sono messo a disposizione dell'associazione. L'Ari ha una rete di ripetitori in VHF e UHF sulle varie frequenze radioamatoriali che gestisce in modo da poter permettere e migliorare i collegamenti tra i soci stessi e tra l'altro i radioamatori che utilizzano quelle frequenze e questo sistema di ripetitori li mette anche a disposizione nei collegamenti di emergenza. Per cui il mio compito è quello di curare a livello provinciale e regionale questa rete che venga sempre mantenuta in funzione, vedere se ci sono problematiche, intervenire in caso di sistemazione dei ripetitori e che tutto funzioni sempre in regola e per in qualsiasi evenienza almeno poterli utilizzare e che funzionino in modo egregio. Signor Dolci, mi diceva che metteva anche in contatto le prefetture. Allora certo esattamente le prefetture sono tutte collegate a livello nazionale tra di loro e con il ministero e il dipartimento e abbiamo un nostro rappresentante che è una personalità in questo campo, il signor Giannino Romeo che ha curato praticamente l'idea di questi collegamenti tra prefetture dopo il terremoto dell'Irpinia, mi ricordo, l'ho vissuto anche allora siamo arrivati già a 328 prove di sintonia che sistematicamente facciamo in prefettura infatti in prefettura abbiamo anche una nostra stazione radio gestita da noi, dall'Ari e con apparecchiature messe a disposizione dal ministero per poter fare questa rete in caso di evenienza la prefettura di Bergamo è collegata con tutte le prefetture d'Italia eventualmente con tutto il mondo in caso di calamità di una certa rilevanza.